Inaugurato il Simulation Center, il futuro è qui. Cosa significa? Diciamo che il futuro è qui vuol dire che qui stiamo cercando di costruire il futuro e siamo già abbastanza avanti con la parte della tecnologia. La tecnologia nel Simulation Center è il centro del modo di fare la didattica moderna, di avere la possibilità di insegnare con lo stesso linguaggio con cui gli studenti moderni sanno apprendere, che quello tecnologico, quello in cui loro sono in grado di toccare attraverso i touchscreen dei telefonini o attraverso le immagini che vengono proiettate nei telefonini riescono ad apprendere molto più velocemente che come si faceva una volta sui libri all'università. Quindi questa interazione e questa didattica dinamica al centro per un centro di simulazione. Ecco, qui che tecnologie abbiamo? Abbiamo varie tecnologie che vanno dalla tecnologia robotica in grado di ovviamente migliorare la capacità di fare la protesica, quindi dal punto di vista dell'ortopedia. Ci sono le simulazioni che vengono fatte per le infermiere per il miglioramento anche dell'assistenza domiciliare, ci sono le simulazioni per gli otorini, quindi con delle tecniche anche di imaging molto professionalizzanti, per l'emodinamica cardiologica e l'angiografia, quindi per la parte radiologica interventistica, e anche simulazioni di veri e propri scenari per quanto riguarda i dentisti, gli odontoiatri, gli ingegneri, quindi per tutto ciò che è la loro parte di simulazione, e anche di ambienti dove i professionisti sanitari si possono trovare immersi, quindi nella cosiddetta sala immersiva, dove degli ambienti reali, visivi e con anche delle attività sensoriali dal punto di vista anche dell'olfatto, si è capace di essere una realtà in grado poi di essere simulata e poi essere applicata alla realtà. Perfetto, quindi dal punto di vista anche del problema formativo, quindi parliamo dell'attenzione digitale in campo sanitario ospedaliero e chiaramente come sappiamo bene c'è sempre questo problema che ci portiamo dietro delle competenze, quindi finalmente qui possiamo lavorare su questo? Sì, lavoriamo molto anche sulle competenze professionali e anche sulla formazione di chi deve fare formazione, perché alla base proprio della capacità di fare simulazione ci sono degli ambiti specifici per cui la docenza in simulazione è una docenza che noi stiamo approfondendo attraverso anche l'utilizzo delle nostre risorse. Ecco, un'ultima domanda, c'è spazio per l'intelligenza artificiale, abbiamo già delle applicazioni? Abbiamo delle applicazioni per l'intelligenza artificiale che vengono utilizzate proprio sui big data e che utilizziamo proprio sulle tecniche operatorie andando a confrontare dei dati radiologici con dei dati sul sistema tecnico digitale.